Ieri il governatore Maroni ha presentato alla stampa le nuove tratte Milano-Genova, una tratta che in realtà sarà operativa tra due anni. Dice che questo è il modo con cui si può combattere lo smog. Benvengano finalmente, tardivamente, degli interventi in questa direzione. Contemporaneamente però la regione che cosa fa? Invesse sul trasporto su gomma, con nuove linee autostradali. Il percorso tracciato da Maroni, ahimè, non è quello del treno Genova-Milano, ma è quello annunciato nell'insediamento della sua legislatura, quando ha detto abbiamo bisogno di nuove autostrade per rendere più scorrevole il traffico. C'è un grave conflitto di coscienza tutto all'interno della testa di Maroni.